Castagne e cuore di rum. Lessate le castagne e sbucciatele. Mettetele in un mixer con lo zucchero, la vaniglia, il cacao e il buzo fuso. Crullate. Per la farcia, mescolate lo zucchero con l'amido di mais. Aggiungete il rum e il lato. Cuocete per 10 minuti e lasciate raffreddare. Per montare la castagna, rivestite una tazzina con la pellicola e foderatela col composto di castagne. Mettete al centro un cucchiaino di crema, chiudete la pellicola, togliete il dolce dalla tazzina e sigillate la castagna ruotando la pellicola. Lasciate in frigo per mezz'ora almeno. Togliete la pellicola. Riproducete la punta della castagna con un po' del composto al cacao. Nappate con cioccolato fondente e assaggiate. Le castagne e cuore di Rum sono un'idea belli e pronti. www.belliepronti.it Vieni a trovarci sul blog. Inquadra il QR code.